L'elettore dovrà presentare L'elettore dovrà presentarsi al seggio con un documento di identità valido e la tessera elettorale. Chi non ha la tessera o la smarrita può richiederla all'ufficio elettorale del comune di residenza. Tutte le informazioni sulle elezioni e sul voto domiciliare e assistito sono disponibili nella programmazione regionale della RAI, sulla pagina 516 di televideo di RAI 3 e sui siti www.interno.gov.it e su www.rai.it. Inoltre si ricorda che in Sicilia per le elezioni comunali i seggi saranno aperti domenica 31 maggio dalle 8 alle 22 e lunedì 1 giugno dalle 7 alle 15.